L'altra sera arrivo a letto e la mia dolce metà dormiva già. Allora dico, guarda, sai cos'è? Ne approfitto per vedermi un video su YouTube che era un'intervista di Chris Anderson con Harari. C'è chi si guarda Fast and Furious e chi è impallinato così tanto da volersi sparare un concetto del genere. Che però era molto interessante. La mattina mi sveglio e la mia dolce metà mi guarda come se fossi un marziano E.T. E mi dice, è successa una roba strana ieri notte. Mi sono alzata così, non riuscivo a dormire e ti ho trovato seduto a letto, addormentato, col cellulare ancora in mano che andava e fin qui uno dice, vabbè, ti sei addormentato. Ma la cosa pazzesca è che mentre dormivi avevi il pollice che swipeava in automatico, capito? Il riflesso condizionato, sei lì... Ma il pollice va anche quando dormi. Pazzesco se ci pensiamo. Mi colpisce sempre vedere questo aggeggio qua quanto sia in grado di renderci dipendenti. Perché c'è talmente tanta roba dentro, è difficile staccarsi. Quanti di voi vanno a letto con il cellulare acceso? Ok, questo è facile. perché uno dice, ma non si sa mai un po' il cordono umbilicale nella notte. Metti che ci chiama Leonardo Di Caprio ma mica vorrai perderti la telefonata, vero o no? Altra domanda per curiosità. Quanti di voi quando vanno a letto appoggiano il cellulare sul comodino e quanti di voi invece lo tengono sul letto? Io spesso, spesso stavo suonando, no, non stavo suonando. Poi sei sempre attento, dici, cosa sarà successo? È talmente importante la roba che succede che il resto? Dici, beh, è secondario. D'altronde provate a fare sto test voi. Provate a sbloccare il cellulare e ditemi a quale distanza vi sentite tranquilli a tenerlo. Un metro? Tre metri? Cinque metri? Dieci metri? In cuor vostro. Quanto vi sentite tranquilli a lasciare il cellulare completamente sbloccato, così? In mano potenzialmente a chiunque. Magari vostra moglie, vostro marito che può guardare i vostri segreti. Poi la cosa che ti frega è che staggeggio qua fa tutto. Perché fa da torcia, la sera ti alzi cosa fai? Fai luce, no? E lo usi da torcia. Poi ti fa da sveglia. È il motivo per cui non lo spegniamo la notte. Perché diciamo, ma no, aspetta, lo devo usare come sveglia. Hai una cazzo di sveglia che ti costa tre euro, che funziona bene e non ti manda tutte le radiazioni intorno? Ma no, funziona meglio come sveglia, Monti. Perché ha tante suonerie almeno, posso scegliere. Invece la sveglia vecchia, quel rumore insopportabile ah, ah, rumore veramente insopportabile. Però ha senso usare un cellulare per la sveglia? Io lo uso come sveglia. Cerco di staccarmi al momento. È pazzesco quanto sia una sanguisuga sempre attaccata. L'ultima cosa che controlli la sera è la prima cosa che controlli la mattina. Per quanti? Sulle mani. È così. Per moltissimi, per moltissimi. Che dire, my friend? Oh, vi saluto e ci aggiorniamo. Alla prossima.